La strega del Mugello scena 1 prima Buonasera amici spettatori, sono Francesco e sto per accompagnarvi in un viaggio da inco alla scoperta di una delle leggende più spaventose d'Italia, quella della sanguinaria strega del Mugello Questa donna, piena d'odio, è in festa ancora boschi Come? Come?! Ah! Ahahahahaha! Nooo! Ehhh Ehah! Esatto Ehhh Chachau Chachau Cretato Chachau Sontan Chachau Chachau Sontan